ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video allora questo in realtà è un video che non avevo mai pensato di fare minimamente però mi sento in dovere oggi di farlo perché mi sono ritrovata iscritta in un gruppo che appunto riguarda chi ha congiunti fuori dalla propria regione che non può comunque rivedere e deve aspettare almeno fino al primo di giugno in realtà questa è la mia storia ma la storia di tanti perché tante persone ci hanno qualcuno qualche familiare fidanzato gli affetti in un'altra regione ma non ci può ancora andare per le regole appunto del governo che hanno messo e noi veniamo paragonati ai semplici turisti cioè se io voglio andare mettiamo per esempio nel molise a trovare il mio fidanzato devo aspettare almeno il primo giugno perché primo giugno si riapre ai turisti personalmente parlando però questo lo dico a nome di tutti non è una cosa giusta perché noi non chiediamo di farci una vacanza assolutamente noi chiediamo soltanto di poter riabbracciare i nostri cari i nostri fidanzati i nostri zii i nostri nonni i nostri genitori i nostri figli tutti quanti che stanno ma andiamo anche a una regione confinante alla nostra come nel mio caso che io ce l'ho praticamente ce l'ho praticamente attaccato diciamo c'è la regione molise sta vicino l'abruzzo quindi io confino si potrebbe dire con mio fidanzato però non ci possa andare né lui può venire qua io dico soltanto che quello che ci stanno facendo è la peggiore delle violenze perché non si può impedire a due persone che si amano di stare insieme all'inizio questa cosa è servita per placare un pochettino l'andamento del contagio però adesso la sofferenza è ancora maggiore perché vediamo che tutti possono riabbracciare i propri cari tranne noi noi che siamo congiunti di serie b che chiaramente non possiamo riabbracciare un'altra persona che amiamo li vogliamo bene soltanto perché stanno una regione confinante alla nostra o in un'altra regione anche se non confini però comunque un'altra regione e io questo non lo reputo una cosa giusta perché così facendo si crea soltanto secondo me discriminazione cioè come se mettiamo io posso vedere mettiamo un mio parente di sesto grado che non non ho più contatti dal 1996 che sta in abruzzo però non posso rivedere il mio fidanzato che li voglio bene c'è una certa affezione perché sta in un'altra regione io mi sento di dire a nome di tutti di tutte quelle persone che stanno passando quello che sto passando pure io di dire secondo me che insieme l'unione fa la forza quindi di bombardare questi che ci governano affinché ci venga data la possibilità di poter rivedere i nostri congiunti anche se stanno in un'altra regione per le vacanze il turismo o altro secondo me possiamo aspettare pure luglio per intenderci pure agosto anzi quest'anno a me non interessa proprio viaggiare quello che voglio poter rivedere il mio fidanzato e lo vogliono tutti quanti quindi ho deciso di fare questo video perché leggendo i commenti di questo gruppo che appunto tratta appunto di questa situazione ho letto molta sofferenza c'è una ragazza che si è tolta la vita perché non sopportava questa sofferenza che vogliamo fare che alla fine come per dire ti salvi down da questa malattia però muori di depressione e non va bene quindi io spero che facendo questo video possa arrivare al cuore delle persone chi ci governa e di dare la possibilità a noi che non lo facciamo per vacanza assolutamente no possiamo anche stare per intenderci farci vabbè 14 giorni di quarantena insieme a questa persona però l'importante è rivederla e abbracciarla perché veramente a me il mio fidanzato io non lo vedo dal 4 gennaio ragazzi non potete immaginare la mia sofferenza il mio dolore e tutto quanto io tutti i tanti giorni piango piango e non va bene e io penso che piangono anche gli altri perché io li leggo i commenti e non non va bene quindi vi chiedo di condividere più possibile questo video perché voglio che questo video faccia in un certo senso il giro del mondo affinché veramente si sblocchi un po la situazione perché non è giusto che dei congiunti debbono essere paragonati a dei turisti quindi per questo video è tutto ci rivediamo al prossimo video ciao ragazzi